Si chiama Proximity Care, il nuovo progetto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha fortemente voluto per favorire il miglioramento dei servizi sanitari, sociali e sociosanitari per le cosiddette aree interne della provincia e sul quale ha deciso di stanziare ben 5 milioni di euro tra il 2022 e il 2026. Nella sala su Fredini della Rocca Reostesca a Castelnuovo di Garfagnana si è svolto il primo incontro con i sindaci delle aree interessate dal progetto, Valle del Cerchio, Garfagnana e Versilia-Montana, presenti in gran numero per un confronto sulle numerose problematiche che affliggano territori in difficoltà sul piano dell'assistenza sanitaria, della connettività e più in generale sull'erogazione di servizi basilari di vario genere. In contravista anche la firma di una convenzione che la Fondazione Cassa di Risparmio, nella persona del presidente Marcello Bertocchini, ha stipulato con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, rappresentata dalla rettrice Sabina Nuti. Accordo con cui la Scuola Superiore Sant'Anna si impegna a dar vita ad un modello di sviluppo in grado di migliorare la qualità di questo tipo di servizi all'interno di queste aree. Ma quali saranno gli obiettivi? Noi crediamo che questo sia un territorio dove possiamo mettere in pratica, sperimentare a livello di sistema, innovazioni tecnologiche ed organizzative che possano permettere di migliorare la qualità di vita della popolazione. Indubbiamente per il territorio un progetto di notevole importanza. Sì, è il più importante progetto che la Fondazione Cassa di Risparmio Lucca ha messo in atto per i prossimi cinque anni, almeno al momento. È un progetto, ripeto, importante, ma soprattutto si spera che sia importante per le ricadute sul benessere delle persone che vivono le aree interne della nostra provincia. Nello studio che la Scuola Superiore condurrà sul territorio saranno coinvolti anche i sindaci, gli operatori sociosanitari e le associazioni del terzo settore al fine di individuare i bisogni principali di queste aree sui quali indirizzare le scelte e le priorità per investire i fondi messi a disposizione.